grazie a voi un urletto dai un urlo non si è sentito tutto l'oro ci siete ci siete vai ragazzi eccoli la ci siete vai 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 c'è un video c'è un video i migliori siamo stati fotografi ok ragazzi fatta grazie 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 è un leoncino non è un cane che bello bello bene dai grazie 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 grazie